Prezzi alle stelle a Chiavari per affittare un appartamento. Non solo d'estate si sfiorano i 2000 euro al mese per prendere in locazione una piccola casa per le vacanze, ma anche d'inverno i prezzi per un bilocale non scendono sotto i 600 euro più spese. Ultimamente sono un po' arrabbiati i cittadini che abitano a Chiavari perché gli affitti sono molto alti, arrabbiati perché ci sono tanti affitti turistici, il mercato si è spostato molto sull'affitto turistico e molto poco sull'affitto residenziale, quindi questo sta sicuramente provocando dei disagi. Per un prezzo di un trilocale ad esempio ad uso residenziale quanto si può spendere a Chiavari? Si può arrivare a spendere anche 700-800 euro tranquillamente più condominio. Il problema sembra accomunare le città costiere del Tiguglio, tanti affitti brevi e pochissimi annuali. I proprietari infatti tendono anche a Chiavari a prediligere un rapporto di locazione stagionale rispetto a quello residenziale. Preferirebbero affittare per un periodo lungo probabilmente ma vorrebbero delle garanzie che non hanno, penso che il punto sia questo e quindi diciamo si orientano verso un affitto breve perché vengono pagati anticipatamente e non incorrono nella problematica di dire poi me li trovo in casa, non vanno più via, non mi pagano, questo è il problema e penso che sia qui che lo Stato dovrebbe intervenire, cioè tutelare i proprietari. Trovare un alloggio quindi in città sembra sempre più difficoltoso e dispendioso sia per i cittadini locali che vorrebbero cambiare casa sia per i turisti che si trovano ad affrontare spese molto salate. Per un bilocale si può arrivare fino a 1.000 agosto, 1.500, 1.400, così anche 1.600 a volte, poi dipende anche un po' dalla posizione, la vicinanza al mare o la lontananza, insomma agosto è il mese più alto diciamo, anche 2.000 per certi appartamenti di un certo tipo. D'inverno invece se si riuscissero a trovare appartamenti anche durante l'inverno? Diciamo dai 600 in su. Maggiore tutela, questo richiedono i cittadini per riuscire a cambiare la rotta che al momento vede come punto di forza ancora gli affitti brevi.